Qui comincia la sventura del signor Bonaventura, diventato servitore del dottore Crepatuore. Ipecacuana. Dunque, dunque. Bambino scemo. Ora il dover ci attende di levare quelle tende. Ma signora, suo figlio è cretino. Nato? Nato no. Ora intelligentissimo invece. Pensi che sapeva estrarre a memoria le radici cubiche di numeri di dieci cifre. Ma come è stato? Uno spavento. Per lo scherzo del fratello che gli si presentò mascherato da fantasma. Ci vorrebbe forse un altro spavento più grande. Proviamo, proviamo. Radici cubiche di un milione e novecento e quarantacinque mila virgola zero zero otto uguale a... È guarito, guarito. Sei tu che l'hai guarito. I miei ringraziamenti più commossi. Grazie. Preferirei le lane rossi. Se dovete scegliere un tessuto pratico e gioviale, troverete nel Rossella Export Lane Rossi una meravigliosa varietà di tinte e disegni. Lavabile, irrestringibile, il tessuto Rossella Export Lane Rossi, affermatosi anche in America, rende gioviale e pratica la moda dei vostri bambini. Rossella Export Lane Rossi. Grazie.